Unifor SRL Unifor SRL Unifor SRL Unifor SRL Vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato Asuro Inail. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Locali sanificati 24 ore su 24, con tecnologia certificata. Per informazioni 071 20 33 24. La salute prima di tutto. Una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie, a vivere più a lungo, a trascorrere sereni la propria età matura. Per questo, da 20 anni, il Centro Diagnostico e Riabilitativo Associati Physiomed, a Sforza Costa di Macerata, ti accoglie nella grande sede ambulatoriale, avvalendosi di un'equip di medici specialisti altamente qualificati, che vantano una consolidata esperienza. Associati Physiomed si trova in Via Natali 1, a Sforza Costa di Macerata. Lo studio dentistico Zavaglia Odontostomatologia si avvale di professionisti di alto profilo professionale ed umano e di materiali e tecnologie all'avanguardia. Il dottor Zavaglia, medico specialista in chirurgia maxillofacciale ed odontostomatologia, esperto di implantologia e delle patologie del cavo orale, relatore a convegni e autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Il dottor Bonifazi Odontoiatra, con master alla New York University, esperto di riabilitazioni estetiche ed implanto protesiche complesse, tutor universitario per l'Università Politecnica delle Marche, Zavaglia Odontostomatologia, Corso Mazzini 100 Ancona, 071 20 05 10. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Canale Salute. Questa sera parleremo dei tumori al seno, che purtroppo sono in aumento in tutto il mondo nelle donne. Ecco, affronteremo questo argomento con i nostri ospiti che sono presenti in studio. Abbiamo con noi il professor Carlo Mariotti, direttore chirurgia senologica, ospedali riuniti di Ancona e direttore nazionale scuola speciale di chirurgia senologica. Buonasera professore. Buonasera a tutti voi. Poi abbiamo con noi il dottore Enrico Lenti, dirigente medico, chirurgia senologica, sempre ospedali riuniti di Ancona. Buonasera dottore. Buonasera. Professore Mariotti, sempre più spesso le donne si ammalano di carcinoma mammario. Ci vuole dire perché, quali sono le cause, quali sono i fattori di rischio? Allora, innanzitutto direi che il dato più importante è quello che una donna su otto oggi si ammala nel mondo di carcinoma mammario. L'altro elemento di assoluto rilievo è il fatto che questo aumento interessa anche le donne giovani. Fino a 30-35 anni fa rimanevano come mosche bianche, invece ora l'incidenza di carcinoma mammario incide pesantemente anche in una fascia giovanile. Questo, subito da dire, che a fronte di questa incidenza però l'andamento della sopravvivenza, cioè la guaribilità della malattia, è assolutamente cresciuta e quindi la mortalità si è assolutamente abbassata. Quindi questo è il primo, per introdurre proprio l'angomento. La prima nota positiva, diciamo. La prima nota positiva. I fattori di rischio, per quale motivo viene? La domanda non è una risposta così diretta. Direi che conosciamo alcuni fattori di rischio. Alcuni fattori di rischio che possono essere evitati. I primi fra tutti, verrebbe da dire una cura attenta della propria persona che è volta sia ad avere uno stile di vita congro, e quindi evitare cibi grassi, evitare la vita sedentaria, alcol, fumo, ma anche quello di avere molto cura della propria persona, di sottoporsi regolarmente a tutti i controlli e ad osservare le minime modificazioni che possano intervenire. In questo ambito va citato il problema della genetica, cioè dei fattori di rischio che alcune donne hanno maggiormente di altre. Alcune donne hanno una mutazione nei loro cromosomi che si portano nella loro famiglia. Il nome di questa mutazione è quello di BRCA1 e 2, che appunto codifica, identifica la possibilità di ammalarsi più facilmente di tumore mammario, di tumore anche ovarico. Direi che questo è un caso che è arrivato all'attenzione del grande pubblico con la vicenda di Angelina Jolie, che comunque ha contribuito pesantemente ad informare, a stimolare le donne a controllarsi. Una donna, per sapere se è a rischio di carcinoma mammario, può fare, siccome lei mi ha parlato di mutazioni genetiche, dei test genetici per vedere se può andare incontro a questo rischio? Dicevo appunto che la mutazione incide in una percentuale molto bassa, ancora per quello che riguarda le nostre conoscenze. Per poter fare questo test, chiaramente tutto questo passa attraverso degli specialisti oncologi che si occupano di genetica oncologica e che intervistano la candidata a fare questo test e se rilevano una storia familiare tale per cui questo test vada effettuato, appunto lo effettuano. Consideriamo che è un test particolarmente costoso, particolarmente anche laborioso da eseguire e quindi va assolutamente mirato nelle pazienti che ne hanno ragione di farlo. Professore, le donne in sovrappeso sono più a rischio di sviluppare un carcinoma mammario? Sì, assolutamente sì, perché il metabolismo dei grassi, del grasso fondamentalmente va ad interferire appunto con gli ormoni, con il circolo ormonale, quindi questo può iperstimolare la ghiandola mammaria. Quindi quando lei parlava di stile di vita, anche mantenere un giusto peso è importante? Sono quelle buone raccomandazioni che ritornano facilmente in tutta la patologia oncologica. È indubbio che il ruolo degli estrogeni, gli estrogeni a livello alimentare, a livello ambientale, insomma il discorso delle radiazioni, pensiamo al fenomeno Chernobyl e pensiamo appunto a quelle che erano ragazzine, giovani, adolescenti e nell'epoca di Chernobyl, che adesso invece sono donne di mezza età e che appunto hanno un'incidenza assolutamente importante. Quindi le problematiche sono molto aperte. La terapia sostitutiva, professore, può incidere nello sviluppo del carcinoma mammario? Mammario, che poi è la terapia che viene fatta, insomma, dopo la menopausa? Che veniva fatta. Che veniva. Che adesso dovrebbe essere oramai abbandonata e una delle associazioni assolutamente documentate, appunto le donne che prendono terapia ormonale sostitutiva dopo la menopausa avevano un'incidenza di tumore del mammario assolutamente più importante. Quindi adesso non viene più fatta questa terapia? Viene fortemente sconsigliata. Ho capito, bene, bene. Professore, ecco, adesso parliamo un attimo dei sintomi. Ecco, il carcinoma mammario dà sintomi? Una donna come se ne accorge? Diciamo, in termine proprio medico, non ha sintomi, perché i sintomi sono dolore o altre cose, che è l'unica cosa che sicuramente il cancro della mammella non dà. Ha dei segni che vanno cercati dalla donna stessa. La cosa più importante è che la donna deve avere coscienza del proprio petto e quindi avere coscienza e conoscenza del proprio petto perché nessuna meglio di lei può individuare se ci sono delle modificazioni, sia nel senso di comparsa di piccoli noduli, di comparsa di ezzema del capezzolo, retrazioni della cute, secrezione dal capezzolo. In realtà il gioco, e lo vedremo nello svolgere della trasmissione, è legato all'attenzione a fare alcuni controlli che possono intercettare il tumore al suo esordio, cioè quando ancora non dà né segni né sintomi. Ecco, infatti ora parliamo appunto, professore dello screening mammografico. Ecco, ci vuole dire in che cosa consiste, da quale età è consigliato farlo e come funziona nella Regione Marche? Lo screening mammografico è stato un passaggio importantissimo della nostra politica sanitaria nazionale e fondamentalmente è l'esecuzione di una mammografia per le donne in un certo periodo di età, ogni due anni, da 49, da 50 a 70 anni fondamentalmente. La donna viene chiamata dal Servizio Sanitario Nazionale ad eseguire questa mammografia una volta ogni due anni. La Regione Marche ha lo stesso screening che hanno tutte le altre regioni del nostro territorio nazionale. L'aderenza a questo screening è non altissima sul territorio nazionale e chiaramente perché il sistema sanitario chiama ma molto spesso le donne non si presentano ad eseguirlo e questo è molto grave per la loro salute e anche per lo sforzo economico che dietro tutto questo sta. Certo, certo, bene. Dottor Lenti, ecco, se una donna ha un sospetto quali accertamenti deve fare per scoprire se ha un carcinoma mammario? Dunque, la cosa più importante e ci tengo a sottolinearlo è che la persona che scopre di avere qualcosa che non va bene nel suo seno non si deve intanto allarmare perché non c'è nessuna emergenza senologica che debba essere affrontata in maniera immediata e tante volte vediamo che le persone si rivolgono addirittura al pronto soccorso. Ecco, non è un percorso consigliato non è neanche consigliato che la donna di sua iniziativa vada alla ricerca di un centro in cui può fare un'ecografia o una mammografia in tempi rapidi perché spesso non è così facile trovare delle tempistiche o delle strutture la cosa invece più importante da fare più logica è affidarsi nelle mani degli specialisti che fanno questo mestiere quindi con impegnativa del curante barrando la urgenza o la visita a breve la lettera U, la lettera B si possono rivolgere le persone in un centro di senologia dove lo specialista la può visitare a volte anche il curante che ci chiama noi a volte le visite che facciamo le facciamo anche in tempi più rapidi dei tre giorni previsti dall'urgenza quindi la persona può telefonare o far telefonare dal curante essere sottoposta a una visita senologica urgente in tempi rapidi lo specialista si prenderà sicuramente carico della persona e la indirizzerà verso il percorso diagnostico utile per risolvere il problema di quella persona se di problema si tratta ecco questa è un'informazione molto importante che ha dato perché ecco magari la donna magari è presa dalla paura poi ecco va non in un centro specializzato invece anche insomma nel vostro ospedale in due o tre giorni è possibile fare questa visita per poi ecco verificare se c'è insomma qualche sospetto di tumore ecco dottore alcune donne sono preoccupate parlando sempre dello screening mammografico alcune donne sono preoccupate per le radiazioni durante l'esecuzione della mammografia ecco come possiamo rassicurarle? dunque le persone possono essere sicuramente rassicurate la dose di radiazione che viene emanata con una mammografia è paragonabile alla quantità di raggi che si può prendere andando in una giornata di sole in montagna le dosi sono molto molto basse e non pericolose è opportuno però che tra una mammografia e l'altra ci sia un intervallo di tempo di almeno un anno quindi è importante che la mammografia non venga eseguita se non in presenza di determinati motivi e specifici motivi clinici tra una mammografia e l'altra deve passare un anno se non ci sono motivi particolari per accorciarlo bene ecco dottore la mammografia può avere un margine di errore nella diagnosi? certamente, non esistono in senologia ma in medicina in generale esami infallibili esistono esami utili, esami molto utili come la mammografia che sicuramente è l'esame senologico principale ma tutti gli esami devono essere interpretati come una serie di indizi che concorrono tutti insieme a formare l'idea della visione clinica di quella persona se voi ci pensate la medicina è ancora una di quelle cose per cui è stato complicato e non sono ancora nate applicazioni o algoritmi di computer in cui una persona prende e inserisce i dati e poi c'è un risultato perché si basa ancora sull'esperienza del professionista sulla raccolta di tutti i dati che poi devono essere messi insieme per concorrere a fare il quadro clinico quindi la mammografia è un esame come tutti gli esami che esistono non infallibile ma molto utile che deve essere integrata nell'ambito di un percorso diagnostico con gli altri esami che servono ecco bene, dottore è abbastanza comune vedere scritto nel referto della mammografia presenza di microcalcificazioni e questo chiaramente destra una certa preoccupazione nelle donne ecco, ci vuole dire che cosa sono le microcalcificazioni? dunque, le microcalcificazioni sono piuttosto frequenti nelle mammografie e non sono tutte uguali se ne distinguono vari tipi l'importante è sottolineare che le microcalcificazioni possono e sottolineo la parola possono essere l'espressione di un carcinoma in fase molto iniziale l'importanza delle microcalcificazioni è proprio questa cioè possono essere la spia di un carcinoma che potrebbe diventare aggressivo ma che ancora non lo è ed è questa una cosa molto importante perché il riscontro di microcalcificazioni che sono l'espressione di un carcinoma in fase iniziale consente di avere una cura precoce e la precocità della cura è associata ad un'efficacia e una guarigione pressoché totale quindi le microcalcificazioni non sono tutte uguali il fatto di avere le microcalcificazioni non vuol dire essere malata sono diverse ed è il radiologo che capisce quale sono di un tipo e di un altro nelle calcificazioni che devono essere indagate nelle calcificazioni che devono essere indagate a volte troviamo dei carcinomi molto iniziali e sono quelli i casi in cui noi otteniamo il massimo dell'efficacia della terapia e della cura Bene Professor Mariotti, ecco, sebbene si parli comunemente di tumore al seno è bene sottolineare che i tumori al seno non sono tutti uguali Certo, questa è una delle acquisizioni diciamo più rilevanti degli ultimi anni molto tempo fa i tumori erano fondamentalmente o venivano dai dotti o venivano dai lobuli quindi se ne conoscevano due tipi duttali e lobulari poi è comparsa l'addizione che citava il mio collega prima del carcinoma intraduttale cioè in cui le cellule erano ancora all'inizio rimaste nei dotti del latte e che vanno poi a guarigione una volta trattati la vera rivoluzione è quella di aver conosciuto una carta d'identità biologica di ogni singolo tumore questa è un'acquisizione grazie ai patologi che abbiamo avuto negli ultimi 10-15 anni che ha un po' rivoluzionato anche il sistema di cura cioè a dire che quello che ritenevamo essere lo stesso tumore in realtà due o tre tumori sono profondamente diversi perché hanno delle caratteristiche biologiche completamente a sé stanti mi riferisco ai recettori per gli ormoni, ai recettori ormonali mi riferisco agli indici di proliferazione cellulari mi riferisco agli oncogeni cioè tutta una serie di informazioni che definiscono tutta una gamma di tumori profondamente diversi bene, ora noi ci fermiamo un attimo per una pausa pubblicitaria restate con noi, torniamo tra poco sempre per parlare del tumore al seno e sempre con il professor Mariotti e del dottor Lenti lo studio dentistico Zavaglia odontostomatologia si avvale di professionisti di alto profilo professionale ed umano e di materiali e tecnologie all'avanguardia il dottor Zavaglia, medico specialista in chirurgia maxillofacciale odontostomatologia esperto di implantologia e delle patologie del cavo orale relatore a convegni e autore di numerose pubblicazioni scientifiche il dottor Bonifazi odontoiatra con master alla New York University esperto di riabilitazioni estetiche ed implanto protesiche complesse tutor universitario per l'Università Politecnica delle Marche Zavaglia odontostomatologia Corso Mazzini 100 Ancona 071 20 05 10 La salute prima di tutto una visita e un controllo aiutano a prevenire le malattie a vivere più a lungo, a trascorrere sereni la propria età matura per questo da 20 anni il Centro Diagnostico e Riabilitativo Associati Fisiomed a Sforza Costa di Macerata ti accoglie nella grande sede ambulatoriale avvalendosi di un'equipe di medici specialisti altamente qualificati che vantano una consolidata esperienza Associati Fisiomed si trova in Via Natali 1 a Sforza Costa di Macerata La sanitaria Fogliardi del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico negli storici locali di Via Esonso ad Ancuna vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili fornitore autorizzato Asur Inail disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali locali sanificati 24 ore su 24 con tecnologia certificata per informazioni 071 20 33 24 Fai vincere il benessere, scegli Valle Bio prodotti biologici ad Ancuna, zona baraccola Valle Bio è supermercato con prodotti biologici ortofrutta fresca, alimenti dietetici, macrobiotici per celiaci e intolleranti, è erboristeria e tanto altro con un forno interno si produce una vasta gamma di pane e prodotti di pasticceria con farine biologiche integrali e di grani antichi a chilometro zero c'è anche l'angolo gastronomia sempre di produzione interna catering, forniture per feste aziendali e private su vallebio.it trovi tanti prodotti in offerta da spedire in tutta Italia Valle Bio prodotti biologici vicino al centro commerciale Mirum via Valenti 1, zona baraccola Ancuna fai vincere il benessere Uniform SRL è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte Uniform è costruzioni edili ristrutturazioni, cappotti termici rimozione ethernet, coperture civili e industriali poliuree, poliuretane isolanti l'impresa edile Uniform di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto riducendo rispettivamente del 30 e 60% la dispersione termica più valori al patrimonio immobiliare ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65% Uniform SRL via fratte 10 Osimo